ciao a tutti ben trovati a un nuovo video di South Park il bastone della verità ps3 dobbiamo andare qua a parlare col tipo che non è totankano si fatemi parlare con sto tipo qua perché io mi sto già intrippando dai ancora con il golfing che non andiamo a uccidere quel maledetto no per adesso niente ok conto di Winnipeg tutti i metaorsi porca troia ci mancavano anche i metaorsi Io suppongo che No, qua siamo usciti No, non mi dite che siamo usciti Cioè E di qua non si passa Wow Celesmo Sweet That's good Someday I will teach you to do better Quindi per forza di cosa dobbiamo fare lo sconto con questi tre soggetti Io Non combatto neanche Così non consumo neanche dell'energia Mi lascio uccidere Buonanotte senatore Esatto Andate a cagare Tanto mi servono le pelli dei metaorsi Vediamo da dove ci fa partire Ne vuole dieci quel maledetto là Non Winnipeg Neanche una Dieci Vabbè ma allora andate qui? Andate a cagare Cioè veramente Andate a cagare Battlestations Wow That's rad dick Uh huh Hey That should be better than that Help me douchebag Ma prima mi dà l'idea che è meglio che curi Vediamo se posso curarlo l'amico Oh This is killing me, the human body was not meant to move quickly like that Seriously, I might die What? Oh 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 Ma va fan, curva Oh 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 E qua non riesco a passare Vediamo se bastano queste pelli, queste pelli qui Goddammit no! Help me douchebag! Lightning bolt! Uno è quasi morto! Bene! Uno è un giro! Un giro! Un giro! Un giro! Non c'è un giro! Perfetto, socia che colpo, meraviglioso. Metà cuore, metà zanna, metà cuore. Il mio tartiglio. Il problema è che non so... ... 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 Oh God... Se devo dirvi la verità, questa parte del gioco non mi piace neanche un po' Ma neanche un po' Vanno a vedere a Vancouver Cittadini della zona settentrionale di Winnipeg Vabbè soltanto ormai che siamo qua facciamo un giretto Vediamo un po' cosa c'è anche qua Poi ci salutiamo con questo video Diciamo che questa parte di South Park è in stile come erano una volta molti videogiochi Tipo DS ecco per dirsi I giochi di un po' di tempo fa Stile verde I ci tenuti Sì Oh nu Sì Lights No, non ho visto il film. Let me ringerci, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Who let this kid in? Let me ringerci, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? The Duke of Vancouver is a very busy man. Abbiamo lasciato qualcosa qua. Quindi qua siamo a Vancouver. Altra parte del Canada. Non si può fare nulla. Ok, direi che da Vancouver ci salutiamo qui. Vediamo di proseguire sperando di riuscire a trovare questi metawars. Ciao a tutti da Luca CSS. Questo è South Park, il bastone della verità. Ciao, ciao, ciao.